Sono partiti Allora andiamo a vedere il gruppo 3, 6, 5 6, 2, 6 I primi punti al passaggio Ecco di nuovo il passaggio 2, 7, 6 6, 2, 6 Quindi Bramante e Fioretti 9, 7, 0, 2, 4, 0 2, 7, 0 Quindi Bramante e Fancolini 9, 70, 2, 70 6 punti al passaggio precedente 6, 5, 4, 9, 8, 8 Rettifico Era il contrario I numeri al giro precedente 9, 6, 4, 9, 8, 8 A questo passaggio Tanto il gruppo si è Spensato Abbiamo 6 atleti in fuga A domani Eccoli al passaggio 9, 8, 8, 6, 5, 4 Quindi Canoni e Mallorca Ecco di nuovo la testa della corsa Passaggio a passare sul traguardo Per i punti 6, 0, 5 8, 5, 1 Quindi Parison E Rossi Qua il gruppo in vari trenini 9, 6, 4, 9, 8, 8 Quindi Lorello e Canoni Al passaggio Tanto il sestetto Si è praticamente portato Alle spalle del gruppo Ora Abbiamo una coppia di testa Che ha allungato Sul gruppo in fuga 6, 0, 5 E 14 Quindi Parison E Fioretti 14, 0, 5 14, 0, 5 Quindi Fioretti e Barison Che ora hanno Doppiato Il gruppo Ancora Barison In testa Con Fioretti 605 E 14 Barison Fioretti 605 E allora Ricordi che Mi dicono Di ricordare Che Non si possono Mischiare Con Il gruppo Dei doppiati Chi O restano O restano In testa O vanno in coda 14 E 605 Quindi Al momento Restano In testa E passa Fioretti E Barison Ancora Barison In testa Con Fioretti In seconda ruota 605 E 14 Intanto Anche Gli altri Atleti Che facevano Parte Della prima Fuga Hanno ora Doppiato Il gruppo E si sono Portati In testa 276 988 Al passaggio Quindi Pramante Ma che ci Avise voi Allora I doppianti Si devono mettere Tutti in testa O tutti in coda Altrimenti Verranno presi I provvedimenti 988 851 A questo passaggio Ripeto I doppianti O tutti davanti O tutti dietro Al gruppo 14964 Quindi Fioretti E Lorello 14 2-6 6 quindi rettifico 9 6 4 secondo allora il 9 6 4 si deve portare il coda al gruppo altrimenti verrà preso provvedimento o davanti il coda 14 6 5 4 9 6 4 prima ammunizione 14 605 quindi fioretti e barison michael fioretti ora barison in testa ancora con fioretti 605 14 no 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 ma barison ha doppiato il punto ha tornato davanti cioè si era fermato davanti però gli portavano più i punti perché non si sa perché quindi è dovuto ritornare davanti 9 8 8 9 8 8 non si danno più i punti ora allora 9 8 8 9 8 8 6 0 4 allora i doppiati non possono non possono mischiarsi con gli altri 9 8 8 6 3 7 43 9 6 4 43 9 6 4 4 9 9 7 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 8 8 è finita la gara è finita la gara è finita a giro precedente a giro precedente Grazie.